L'esame della Commissione sui Curricula dei candidati per gli uffici speciali dei comuni del Cratere è terminato e ora si attendono le nomine, ma intanto, come accade sempre, è totonomi. Potrebbe essere Raffaello Fico, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e appena nominato tra l'altro dirigente della ricostruzione privata del Comune dell'Aquila, il nuovo titolare dell'USRC. Al coordinamento dei sindaci dei comuni del Cratere piace, ma ovviamente servirà il placet del sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi. Gli altri due in corsa sono Alessia Placidi, responsabile dell'edilizia scolastica dell'USRC, e Sergio De Paulis, ingegnere, ex presidente dell'AMA e ex amministratore dell'Aggiunta di Biagio Tempesta. Intanto, sino alle nomine, sarà Giovanni Francesco Lucarelli, il titolare ad interim degli uffici, provvedimento deciso per sbloccare l'impasse della ricostruzione, ferma da mesi. La terna dei tre, come è noto per l'USRC, è stata decisa dalla commissione insediata a Palazzo Chigi, dopo i colloqui di giovedì dei candidati che hanno superato la prima fase dell'analisi dei Curricula. Intanto, si dovrà formare anche la terna dell'USRA. Il favorito potrebbe essere il siciliano Salvo Provenzano, già responsabile dell'area tecnica dello stesso ufficio, e dall'aprile del 2017, in forza alla struttura tecnica di missione, che gode anche del sostegno del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Intanto, Lucarelli ha detto che da oggi inizia il lavoro con il personale di USRA OSRC, per avviare la disamina e la soluzione dei problemi più urgenti. Il suo incarico, come è noto, durerà sino al 31 gennaio. La palla, infatti, passerà al presidente del Consiglio dei Ministri, che farà le nomine con un decreto, d'intesa con il sindaco dell'Aquila per l'USRA, con il tavolo di coordinamento dei sindaci dell'area Emogene, che rappresenta i 56 comuni del catere sismico, e con quelli fuori catere per l'USRC. I decreti di nomina dopo dovranno passare al vaglio del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti per la bollinatura. In corsa per la terna SRC, come dicevamo, ci sono sei candidati, per l'USRA sono una decina, tra loro appunto ci sarebbe Provenzano. Le due commissioni al lavoro sono composte dal presidente Sabrina Bono, capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nominata dal governo che presiede entrambe, poi da Antonio Iovino, coordinatore del Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale, designato dalla Regione Abruzzo e nella Commissione USRA da Vittorio Fabrizia e nella Commissione SRC da Marta Ricicco, segretaria comunale di Cugnole e Pescara, nominata dal tavolo dei sindaci.